L'ombra della camorra sulle elezioni regionali in Campania 2015, una ventina le misure cautelare disposte dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Sentiamo Valeria Papitto. Se non escono i voti, devi vedere, ti togliamo la macchina da sotto. Minacce e intimidazioni, ma anche 70 euro, qualche buono pasto e il carburante gratis. Tanto valeva un voto per alcuni candidati alle regionali Campania e Caserta nel 2015. Per ottenerne almeno 100, oltre a pagare alcuni elettori compiacenti, sarebbero stati disposti persino a farli accompagnare da esponenti del clan camorristico Belfiore dentro al seggio elettorale, correggendo, se necessario, i nomi sulla scheda. Ora, in 19, sono agli arresti su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ipotizza il metodo mafioso. Con il telefono in mano, faccio la foto, devo vedere sul telefono, se no, non hanno niente, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione ambientale. A rispondere a vero titolo di voto di scambio, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, anche due candidati della lista Nuovo Centrodestra, Campania Libera, Pasquale Carbone e Pasquale Corvino. Quest'ultimo, poi non eletto, è l'ex presidente della Casertana e titolare di diversi laboratori di analisi. Tra gli indagati, anche la compagna di Carmine Antropoli, l'ex sindaco di Capo e primario del Cardarelli, arrestato ieri dai carabinieri con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.